La partita Expo si sta giocando su almeno due tavoli, all'apparenza diversi, inconciliabili eppure drammaticamente legati e destinati, chissà come, a collaborare gomito a gomito. Il tavolo più goliardico è quello politico, quello delle dichiarazioni dure, quello dei botte, risposta tra formigoni. Da un lato, lui, targato commissario generale per Expo 2015, che dice di volersi tenere la nomina nonostante tutto. In barba al pirellone che viene giù, maciullato dalle indagini su presunte vicinanze di un suo assessore con l'andrangheta e altri 14 indagati in consiglio regionale. Un biglietto da visita rischioso per la manifestazione internazionale, anche per il fatto che lo stesso Formigoni è sotto indagine per corruzione aggravata sull'inchiesta Sanità Lombarda. Niente paura, ha replicato il celeste, il ruolo è ad personam, come a dire me lo tengo, è morta lì. Dall'altro c'è Giuliano Pisapia che, con la carica di commissario straordinario di Expo, dice Questa è una decisione del governo che io rispetterò. Chiaramente se mi chiederanno un parere, darò il mio parere, che in questo momento non ho idea quale possa essere non sapendo la decisione del governo. La bagar politica pare destinata a proseguire tra accuse, controaccuse, interrogazioni parlamentari e via dicendo. Intanto, sull'altro tavolo, quello meno pimpante, ma dove passano le questioni davvero scottanti, ci sono 106 paesi che stanno preparandosi per far bella figura alla manifestazione del 2015. Il Comune di Milano assicura che l'attenzione circa ai controlli sia massima, soprattutto dopo le intercettazioni in cui appartenenti alle cosche parlavano di come sarebbero riusciti a mettere le mani su Expo. Giovanni Maria Flick, delegato di Pisapia per l'esposizione, parla chiaro, servono più uomini per il controllo nei cantieri. Dovrà essere eseguita con massima attenzione l'operazione che appalterà la sorveglianza del perimetro dell'area di lavoro. Due tavoli diversi che non si parlano, tecnici e politici, e che anzi pare si facciano i dispetti il modo più facile per creare quel solco in cui le infiltrazioni avranno gioco facile.